Sicuramente una grande responsabilità ma che ho accettato dopo l'investitura prima di tutto dei militanti della Lega 9 di Verona e nell'ultimo federale anche da parte dei Vertici. Per me l'esperienza più bella in politica è stata quella di amministratore locale, un'esperienza difficile ma che mi ha dato grandi soddisfazioni, il contatto diretto con i cittadini, la possibilità di dare risposte concrete a differenza di quella che è la vita dei palazzi che ci vede sempre in prima linea, in battaglia ma spesso purtroppo con un muro di gomma che ci dà una sensazione di impotenza a fronte delle mille esigenze dei nostri cittadini e della cecità, della sordità di chi ci governa che non è attento alle esigenze delle nostre comunità. La mia intenzione è quella di mettermi al servizio della mia città, dei cittadini veronesi, una città straordinaria che merita una buona amministrazione in un periodo sicuramente difficile per gli enti locali, poche risorse, pochi poteri per dare sicurezza ai nostri cittadini ma qualcuno si deve assumere questa responsabilità e io con orgoglio porterò avanti gli ideali della Lega per dare una buona amministrazione. Io non farò una campagna elettorale contro gli altri candidati ma per Verona perché credo che Verona meriti di essere una città sempre più bella, più sicura, dove ci sia decoro, rispetto delle leggi e dove non si realizzano sogni faraonici ma si realizzino progetti concreti nell'interesse di tutti i veronesi. Sognare è lecito però sempre con i piedi per terra. Questa sarà l'impostazione che noi daremo alla campagna elettorale e speriamo di unire intorno alla mia candidatura e alla Lega Nord anche tutte le forze di centrodestra che vogliono rappresentare un rinnovamento per il nostro comune, per la nostra bellissima Verona.